Non accettiamo che qualcuno ci dia la linea, non accettiamo che qualcuno invada il nostro campo dicendoci praticamente cosa possiamo e cosa non possiamo scrivere. Se abbiamo fatto degli errori si va in tribunale e si subiscono querele di carattere civile o cause di carattere penale, se si fanno errori. Se non si fanno errori bisogna rispettare il nostro mestiere esattamente come tutti quanti gli altri. Come il diritto, la stampa libera è comunque sancito dalla nostra Costituzione, penso che nessuno si possa permettere di mettere in discussione un principio della Costituzione.